La Commissione europea ha approvato il regime di aiuti per il nuovo bando che verrà pubblicato a brevissimo già nel mese di luglio e che prevede una dotazione di circa un miliardo di euro e prevede la possibilità di installare pannelli fotovoltaici per le imprese agricole con un contributo a fondo perduto dell'80%. Un miliardo di euro a fondo perduto per dare un'opportunità in più alle aziende agricole anche del nostro territorio, quella di diventare produttori di energia verde investendo solo il 20% dei costi di impianto. La notizia è arrivata ieri sera durante l'incontro organizzato dalla CIA di Treviso proprio sull'agrivoltaico. Del resto le aziende agricole vantano aree importanti come i tetti dei magazzini e delle stalle da coprire di pannelli per la produzione energetica. Un settore, quello della produzione elettrica, finora è in parte penalizzato dalla norma che limita gli impianti al solo scopo dell'autoconsumo, ora superato grazie al confronto tra agricoltori e ministero. Limitarsi al solo autoconsumo, quindi a costruire i pannelli sui tetti solo attraverso l'autoconsumo dell'azienda, forse è limitativo per il bando stesso. Sarà incentivato il consumo associato tra aziende sul modello delle comunità energetiche e contemporaneamente sarà normata l'installazione di impianti a terra per limitare speculazioni e consumo del suolo. L'obiettivo è di rendere ogni azienda agricola anche una piccola centrale elettrica per sé e per il mercato. È una grandissima opportunità per il settore agricolo perché consente da un lato di investire nella sostenibilità della produzione ma dall'altro anche nella sostenibilità economica. Un'opportunità economica per il Presidente Veneto di Cia ma anche una risposta a chi vorrebbe l'agricoltura fa nel lino di coda dell'economia regionale e nazionale. Noi siamo per un'agricoltura innovativa, siamo per un'agricoltura del futuro. Sappiamo che la nostra agricoltura qualche problemino c'era però ci sono strumenti per poter risolvere, per poter proiettarci in questa transizione green, in questa anche transizione energetica da vincenti e non da perdenti come spesso alcuni anche movimenti ideologici ci vogliono far passare. Grazie. Grazie. Grazie.